Facciamo i complimenti a Mr. D'Angelo perché la salvezza è tanta roba, con lo Spezia, però è piaciuta tantissimo l'intervista post partita dove ha detto ora vado al mare con gli amici dove a Pescara che è la città più bella del mondo. Ha spopolato sui social? Mi sembrava una cosa evidente per me. Lo puoi ripetere, che cos'è Pescara? Per me è la città più bella del mondo, ma credo che i pescaresi siano molto fieri della nostra città. I pescaresi vorrebbero un domani D'Angelo in panchina? No, va bene Cascione, un domani lontano. Ti fiamo il Pescara e ti fiamo Cascione che è anche un mio ex compagno di squadra. Un flash su Pescara-Juventus, che partita si aspetta? Sarà sicuramente una bella partita perché ci sono tanti giovani in campo in tutte e due le squadre di valore, però il Pescara deve far valere il fattore campo.